Musica Io sto studiando pianoforte jazz, ho finito di studiare pianoforte jazz all'Accademia Internazionale della Musica. L'obiettivo mio è di lavorare con la musica, molto semplicemente. Insegnare musica, suonare, organizzazione di eventi, tutto quello che ha a che vedere con la sfera della musica. Io a Milano mi sono trasferito due anni fa, pensavo molto peggio. Io ero molto più pessimista prima, diciamo, perché ho detto via la città, avvi di Grigiano, Cupa. Invece, soprattutto quest'anno, noto, sarà per il fermento dell'Expo, noto una, non dico rinascita, ma una riqualificazione di molte cose. I Navigli sono, per me, il posto più bello di Milano. Cioè, anche prima dei lavori, a me piacevano tantissimo. Anche prima della riqualificazione della Darsena. E ci sono degli scorci che, tra l'altro c'è una via che è stata classificata come una delle più belle vie del mondo, che è quella del Naviglio Grande. Penso che l'Expo, più che nei padiglioni, abbia portato un contributo alla città. Cioè, adesso, grazie, abbiamo avuto un pretesto per farla diventare una bella città. Cioè, adesso, grazie a tutti.